Ciao, sono Paolo Torregrossa, sono un commercialista, un coach e un formatore, ed è un onore per me far parte di questo straordinario team di formatori che hanno sposato il progetto di URK Academy. È un onore per me poter condividere la mia esperienza con te, che per il solo fatto che stai guardando questo video hai dimostrato la volontà di voler crescere, caratteristica questa che accomuna tutte le persone di successo. Prima di iniziare vorrei raccontarti brevemente la mia storia. Nel 1998 ho passato l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista e solo dopo dieci anni, nel 2007, lo studio da me fondato con altri tre soci contava nove soci, cinque sedi in tutta la provincia di Brescia e 55 collaboratori. Fin da subito mi sono appassionato e mi sono sempre occupato di gestione di impresa, in particolar modo di strategia e di amministrazione, finanza e controllo. In questi minuti voglio parlare con te di quali sono i tre elementi che rendono un business plan utile a chi lo legge. Il primo elemento, il business plan deve dimostrare che tu conosci il settore, che sai cosa stai facendo, che le cose nel tuo business non accadono per caso ma che tu le fai succedere. Deve dimostrare il business plan che la tua offerta di valore è veramente unica. ed infine il terzo elemento, il business plan deve dimostrare che la tua attività ha un equilibrio nel medio-lungo periodo sia dal punto di vista economico che patrimoniale che finanziare. Ma torniamo al primo elemento, il sistema, ovvero il business plan deve dimostrare che sei in grado di far succedere le cose, un metodo efficace, efficiente, predittibile, ripetibile, trasferibile, che dimostra che tu sai conquistare nuovi clienti, fare vendite, soddisfare clienti. Il secondo elemento è l'unicità, ovvero che il sistema e quello che offre il tuo sistema lo sai fare solo tu. Sì, perché le aziende, anche io, sono destinate a chiudere anche loro. Ultimo elemento è l'equilibrio. E come il nostro corpo ha bisogno di respirare e di bere, così il business ha bisogno di produrre flussi di cassa positivi. E quindi il tuo business plan deve dimostrare che la tua attività ha un equilibrio di medio-lungo periodo dal punto di vista finanziario. Siamo arrivati alla fine del nostro tempo e ho condiviso con te quali sono i tre elementi che rendono veramente utile un business plan. Quindi un business plan deve dimostrare che hai un sistema, deve dimostrare che la tua offerta di valore è veramente unica e deve dimostrare che la tua attività ha un equilibrio economico, patrimoniale e soprattutto finanziario. Ricordati, il futuro della tua impresa dipende dal progetto della tua impresa. Non smettere di sognare e tramute il tuo sogno in un business di successo grazie ad una strategia di successo. È stato un piacere e un onore stare con te oggi. Ti aspetto alla nostra Academy. Ciao da Paolo Deregrossa.